La zona della stazione ferroviaria di Bolzano e le vie adiacenti tornano ad essere teatro di gravi episodi di violenza. Gli ultimi, in ordine di tempo, si sono verificati nel giro di poco più di 24 ore e a poche centinaia di metri di distanza l'uno dall'altro. In ordine di tempo, il primo è accaduto lunedì sera in via Crispi, poco prima delle 21, la polizia è intervenuta dopo che un minorenne marocchino era stato colpito con una coltellata a una guancia. Sono scattate le ricerche grazie alle indicazioni fornite da alcuni testimoni, gli agenti della squadra volante hanno rintracciato in via Peratonner l'autore dell'aggressione, un 28enne tunisino senza fissa dimora che ha ammesso di aver sferrato il fendente per precedenti rancori personali nei confronti del ragazzo. Ieri sera alle 19 in via Garibaldi è stata invece rapinata la filiale della Western Union, agenzia specializzata nel trasferimento di denaro all'estero. Alcuni individui armati di coltello hanno minacciato il gestore facendosi consegnare 2000 euro in contanti prima di darsi alla fuga. Un'ora dopo i malviventi sono tornati sul posto. Erano certi che lo stesso gestore, un cittadino pakistano, li avesse riconosciuti e hanno cercato di intimidirlo. Ne è scaturita una maxierissa che ha coinvolto una quindicina di persone, alcune delle quali ricoverate in ospedale con ferite di media gravità. Sono in corso indagini, i rapinatori sarebbero già stati individuati grazie alle riprese delle videocamere di sicurezza della filiale Western Union e si tratterebbe di alcuni cittadini afghani.